Pubblicità su Facebook, riflessioni sparse di vita vissuta. Numero uno per le aziende, Facebook non è gratis. Facebook è un canale a pagamento. Ripeti con me, Facebook è un canale a pagamento. And I will prove it to you, mate. Fai finta che Facebook sia canale 5. E domattina, confalonieri, c'è ancora il confa. Ecco, il confa dice, signori miei, da domani diamo uno spazio gratuito a tutti gli italiani. Confa, confa, confa. Però, lo spazio gratuito è dalle 4.30 alle 4.40 di notte. E in quello spazio ci sono contemporaneamente 60 milioni di italiani. È gratuito però. Oh, ma se sei un'azienda e vuoi avere più visibilità, ci dai il grano. Quanto grano? Più grano possibile. Più dindo ci dai e più ti diamo visibilità in prima serata con tutti gli orpelli. Facebook, amici miei, funziona allo stesso modo. Se vuoi raggiungere tutti i tuoi fan con regolarità, o se vuoi raggiungere persone esterne, devi dagli il grano. Immaginati di avere una pagina con 100 mila persone. Organicamente, ci adotto, naturalmente, raggiungi magari il 10%, 10 mila persone. A quel punto, FB, Marchetto, ti dice, oh, vuoi raggiungere altri 90%? Dammi il soldino. Più soldino mi dai e più ti aumento la riccia. Ora, questa è la promessa generale. Un'azienda può anche dire, no, io non gli do una lira e faccio dei contenuti talmente fighi che esplodono. È possibile avere dei risultati? Assolutamente sì. La probabilità di esplodere in questo marasma di contenuti, chiaramente non è altissima. Però, è come se tu fossi su Canale 5 alle 4 e 20 di notte, magari fai della roba talmente figa che convince la gente ad alzarsi alle 4 e mezza di notte, pur di vedere il tuo contenuto. Quindi è possibile, ma è una probabilità molto, molto bassa. Ma chi fa business non gioca all'otto. Chi fa business deve avere uno strumento in un qualche modo stabile e prevedibile, e quindi Facebook fa leva su questo. Io ho iniziato a fare pubblicità su Facebook dal giorno 1. Assolutamente è uno strumento che consiglio, perché il costo di acquisizione in questo momento è basso, e invece nei prossimi 12 mesi, 18 mesi, quello che sarà, quando una marea di aziende comincerà a investire grossi budget su Facebook, quello che oggi ti costa un centesimo, ti costerà un euro. Questo significa che se il tuo budget di oggi è 100 euro, se oggi quei 100 euro raggiungevano 100 persone, domattina ne raggiungono 10. O tra parentesi non piglio una lira per segnalarvelo sto Facebook advertising. Non è vero. Ha chiamato Mark che di sera e mi ha detto Monti ti prego fai sto video, ok? Abbiamo fatturato solo 4 miliardi nell'ultimo quarter. Mark va bene dai, però, cioè è l'ultimo, è l'ultimo. Qualche consiglio allora per le vostre campagnette. Anzitutto affidarsi a una buona agenzia che faccia il day by day. Ogni giorno hai una marea di attività, sposta il video, aggiungi il video, cambia il budget, togli il budget e ti serve qualcuno bravo, e ce n'è una marea in Italia, che faccia tutta questa gestione. Un errore che ho fatto all'inizio era promuovere la pagina, non farlo. Promuovi il singolo contenuto. Sei uno che vende cioccolatini. Fai un bel video su come viene fatto il cioccolato nei posti più belli del mondo e promuovi quel singolo video, quel singolo contenuto, sul pubblico a cui puoi interessare. Chiunque nel mondo che ami il cioccolato. Due miliardi di persone su Facebook, spendi tre miliardi. A questo si collega il tema della specificità. Non fare dei video che sono molto generalisti. Fai dei video specifici. Fai un contenuto e promuovi quel contenuto per gente che vive a Milano e che legge solamente Paperinic. La costanza, altro tema importante. Al posto di prendere un budget e sbatterlo in una campagna al volo, così one shot, o su un singolo video, una serie di video, dal mio punto di vista invece no, è costante. Ogni giorno tu hai la tua campagnetta che corre. Magari non spendi tanto, dipende dal budget che hai, però uno sforzo costante. Ogni giorno, come la gocciolina, tu fai il tuo sforzo costante di sostegno pubblicitario e contenuti. Questo è l'altro punto. Campagne pubblicitarie su Facebook. Senza dietro dei buoni contenuti, soldi spesi inuti. Fai degli ottimi contenuti. Concentrati bene per cercare di fare i miei contenuti possibili, ognuno fa i suoi. E poi sostieni quei contenuti con la parte pubblicitaria. Non ti sostituisce comunque la visibilità. Quanto spendere? Non te lo so dire. Valuta tu in base al budget che hai. Dall'altro lato, è un buon investimento sì o no? Devi fare dei calcoli di questo tipo. Se tu hai una mail in list, facciamo un esempio, e usi Mailchimp, hai presente il sistema per mandarle email. Se hai una mail in list tipo di 300.000 persone, costa una roba tipo 1.300 euro al mese. Non mi ricordo esattamente, però una cifra del genere. Questo significa che tu 1.300 euro al mese, li spendi per mandare 300.000 mail. Bene. Il problema qual è? È che il tasso di apertura delle tue mail non è il 100%, magari il tuo tasso di apertura è il 10%, il 20%, il 30%, a seconda di come sei messo. Allora il calcolo matematico che puoi fare è, ma se io quei 1.300 euro al mese li metto su Facebook, quante persone raggiungo realisticamente in più rispetto alla mia mail in list? E quindi fai un calcolo per capire se ti conviene oppure no. Alcuni può convenire, ad altri no. E l'ultimo suggerimento è di sperimentare, non c'è la regoletta magica. Hai un algoritmo che Belin cambia ogni 23.000 secondi, devi sperimentare. Testi quello che funziona per me, probabilmente non funziona per te. Prova, 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 incrocia le ditina e good luck. Per chi vuole giocare, Facebook è gratuito. Per chi vuole fare business, Facebook si paga. That's it.